Ragazzi bellissimi, sono qua a Roma, sono in un ristorante, nell'hotel di un ristorante molto molto bello per presentarvi due cose, è uscito un rilm in inglese e io qua ve lo spiego in italiano sono un portacarte, ovviamente con una personalizzazione, con le mie iniziali e con queste bande e un portareologi, sì lo avete visto bene, con la mia faccia sopra questo perché? Va bene, questa è una cosa stranissima, egocentrica, quello che vi pare e va bene così, sdoganiamole, ma soprattutto perché? Perché questi sono due prodotti di Custom and Colors degli italiani che personalizzano a mano leather goods, quindi prodotti di pelletteria in questo caso per l'orogeria, portano oggi da due, molto comodo anche perché ha questi bellissimi cuscinetti che si possono estrarre e ci potete dipingere quello che volete, ovviamente tutto dipinto a mano e lo fanno su un sacco di prodotti anche se voi li portate in loro in compagnia per cui andateli a scoprire, io sono super contento, questo per finire l'estate e comunque anche l'autunno è spaziale e questo è la mia, lasciatelo dire fatemi sapere il vostro preferito e un bacione